cara testa e ferito buongiorno buon venerdì bentornati a questa rubrica video che oggi è dedicata alle novità che ho portato in valigia dalla fiera dunque premessa come sempre questa è una carrellata di libri nuovi quasi tutti non li ho ancora letti quindi non è una carrellata ragionata uno per uno è la carrellata proprio di ciò che mi sono portata a casa e voglio condividere con voi molti di questi libri saranno poi recensiti nel tempo altri no ma ci tengo comunque a segnalarveli seconda premessa qui non c'è tutto nel senso la valigia e le borse che riusciva a portare erano limitate non riesco a portarmi dietro e ad acquistare qualsiasi tipo di libro o insomma ad accogliere qualsiasi proposta quindi alcune cose verranno man mano detto questo quindi sperando di essere stata chiara e facendo presente che comunque mancano molti editori mancano molte novità anche di alcuni editori presenti insomma fate la tara io vi dico cosa c'era nella mia valigia quando sono tornata due giorni fa portando un peso assurdo e lo farò dividendo per settori quindi albi narrativa narrativa illustrata poesia libri per piccolissimi fumetti divulgazione e due progetti speciali e della saggistica quindi partiamo mettetevi seduti perché questo libro sarà questo video sarà lunghissimo abbiate pazienza faccio solo una carrellata quindi vado giù velocissimissimissima d'accordo partiamo dall'albo che forse ha colpito di più insomma in questo senso è la traccia di tassi edito dal barba gianni questo verrà recensito molto presto una chicchetta proprio poi altro albo veramente notevolissimo questo è senza parole l'asino scomparso di lucio notar nicola edito da caissa un libro senza parole anche questo sarà recensito a brevissimo e poi ecco qua che arriva vorrei dirti che se non ricordo male entrate in una delle eterne dell'anderson edito da giralangolo di jean françois seneschal e le illustrazioni di okada anche questo sarà recensito poi andiamo a tutto mio edito da baisler speriamo entri anche questo non aggiungo altro vado via se non finiamo davvero più ludwig e rinoceronte di orecchia cerbo particolare ve lo faccio intanto vedere un pelo perché vediamo cosa riuscirò a fare con le recensioni poi due novità di albi illustrati di perboria questo è una coda per nisse e l'altro è storia strisce queste hanno anche una copertina molto particolare telata novità albi illustrato di terremme di mezzo l'uomo che vendeva il tempo di luca cognolato eccolo qua vado avanti con la narrativa allora narrativa diciamo illustrata andrei anche le prime letture insomma andrei con rico di baisler topo e talpa il segreto della felicità questa è una serie che io adoro stanno uscendo gli altri episodi questo è dolcissimissimo poi queste due novità che come tutte le altre come vi non ho ancora letto per intero sono le due novità di lupo guido questa è una narrativa abbastanza lunga però ha alcune illustrazioni in mezzo questo è il banchetto del secolo e questo invece è edwig vado alla narrativa per più grandi e un po più articolata diciamo cioè sono proprio romanzi o insomma comunque narrativa pura anzi aggiungo alla narrativa illustrata uno di edito da parapiglia di guido quarzo piccole pre storie che in realtà sia un libro particolare insomma ve lo racconterò presto ma lo metto in questa serie di narrativa vado invece con i romanzi e parto da incorporea di benedetta bolfiglioli edito da gira l'angolo questo l'ho finito altro ieri sera ve lo racconto presto un libro particolare poi andiamo con sinos il portoghese blu molto bello di un autore sloveno che quest'anno la slovenia quest'anno era ospite d'onore della children's book fair di bologna poi andiamo col barba gianni questo il quarto mi pare il libro della serie di ramona ramone il suo papà di beverly crilly e poi andiamo con pelle d'oca questo e frammenti di oscurità di stefano cornago eccolo qui e poi andiamo su uovo nero ellie mcnicol che abbiamo già imparato a conoscere questo è come un incantesimo un romanzo che mi aspetta sul comodino appena riesco a recuperare il tempo per tutto e questo scusate mi hanno dato qualcosa di attraverso e questo invece è una novità narrativa di lapis ed è tempesta matteotti di luisa mattia che sta tra il romanzo e la divulgazione storica diciamo chiudo la parte di narrativa con the kissing game short stories by idon chambers questo edito da equilibri sai quegli autori che proprio uno dice no c'è un nuovo libro diciamo che non conosco ecco questa diciamo è la mia reazione a questo libro che tuttavia non ho ancora letto quindi ve lo racconterò strada facendo aggiungo l'ultimo romanzo questo è il castoro un libro peraltro particolare davide morossinotto la notte dei biplani anche questo spero di raccontarvelo a breve faccio una piccolissima pausa nel senso passo ad un'altra categoria che ha un unico rappresentante ma secondo me molto molto bello e cartonato se non ricordo male in una delle eterne questo è merlino dove vai di eva rasano edito da pulce appunto un cartonato per i più piccoli la poesia la poesia non ce l'ho tra le mani però ho visto due libri bellissimi che mi arrivano ve li racconto tra pochissimo insomma appena li avrò tra le mani uno e teresa di jack tessaro e massimilio nata pari che se si dovevano mettere insieme per fare un libro con due autori che che mi piacciono tantissimo ecco era proprio quello e poi è detto da lapis sempre per lapis un gioiellino firmato cinquetti e alessandro sana dal titolo quando la sera la luna parla e adesso passiamo invece a usate mi era rimasto fuori un albo illustrato di quelli imperdibili eccolo qua questa è la parabola del panificio indipendente in realtà vi spiego perché era rimasto fuori perché non l'avevo messo tra gli albi doveva rientrare tra la narrativa poi questo in realtà un libro che insomma esula da qualunque tipo non si fa prendere è proprio una parabola ed è una è un albo è una narrativa illustrata e tante cose messe insieme ve lo racconterò molto presto ma insomma il packer che lo possiamo far mancare in questa carrellatona andiamo avanti con due fumetti uno per grandi e uno per piccini quello per grandi edito da sinnos ed è telemark di apple e malagoli o malagoli non so come quale sia l'accento corretto telemark sabotaggio all'atomica è un grafic novel anche in questo caso c'è un fondo di divulgazione storica e poi per i più piccoli tornano con una nuova anzi due nuove avventure gaetano e zolletta di silvia vecchini e su alzo in questo caso sono state edite da gallucci quindi ha cambiato editore il format gaetano diciamo i personaggi gaitano e folletta si sono spostati verso l'editore gallucci andiamo con due progetti speciali prima di buttarci nella divulgazione dove c'è un mare di cose bellissime i due progetti speciali che vi voglio che voglio inserire in questa carrellata sono ping pong una partita di storie di susi danesin con le illustrazioni di francesca carabelli questo è il secondo libro di susi dedicato alla lettura ad alta voce mi ci dedicherò con calma perché me lo voglio godere però ciò non è che posso non segnalarvelo voglio dire ping pong edito da parapiglia susi e insomma promette comunque per forza per forza bene poi un progetto speciale particolarissimo firmato mariana balducci edito da sabir questo è l'album dei cento bambini ed è un album di figurine proprio figurino che riempite e si prende con l'album e quattro pacchetti di figurine non ci sono doppioni ci sono però delle figurine in più questi sono tre pacchetti che vedete perché il primo me lo so già attaccato questo è un progetto editoriale speciale che a me devo dire incuriosisce molto spero di raccontarvelo presto e adesso mi tuffo dentro la divulgazione a cominciare dal nuovo libro di cocai edizioni che secondo me ha fatto tre libri uno più bello dell'altro questo è lumen chi ha nascosto le stelle valettina gottardi ma cimino e danio maserocchi ed è un album dedicato al al buio e alla luce e a come la luce attira giucelli notturni all'inquinamento luminoso insomma veramente da scoprire ve lo racconterò per filo per segno poi andiamo su un libro di cui si sta parlando tantissimo giustamente perché questo è un esperimento estremo bellissimo ed è intitolato stardust di anna arnesen non so bene come si pronunci un libro di divulgazione sulla storia del pianeta e dell'umanità edito orecchio cervo poi andiamo avanti con delle chicche di raum una è archivio delle paure inutili e l'altro è allora questi sono due libri dedicati a colori questo il verde questo è rosa ce ne sono altri c'è il bianco il nero e il blu mi pare molto molto simpatici poi vado con una mi sposto dalla scienza e vado su un libro che mi ha incuriosito tantissimo questo è di caissa ed è tutta la verità sui pirati perché i veri i pirati sono un argomento inflazionatissimo però libri di qualità su di essi a meno che non si sale voglio dire sulla su stevenson non è che ce ne siano poi così tanti questa è proprio una divulgazione dedicata ai pirati con le parti storiche le spiegazioni relative ai alle navi e tutto il resto interessante mi è piaciuto tantissimo viene come spesso accade dall'europa dell'est perché questa è una cadetrice che spesso va a pescare in quel bottino lì e fa bene perché li conosciamo poco gli autori che vengono dall'est europa vado avanti con biofilia questo è delle edizioni storia di chi di katie elliot è un libro interessante che trova delle parole che non esistono in altre lingue va a descriverne il significato una lost in translation va in questo caso in versione abbastanza diciamo legata all'ambiente alla natura anche poi vado con questo libro particolarissimo di luigi dalcina edito per terra di mezzo in collaborazione con la fondazione migrantes questo è sulla porta del mondo storia di emigranti italiani ed è una un libro di divulgazione dedicato alle migrazioni degli italiani all'estero come dire quando i migranti eravamo noi forse il caso che ce lo ricordiamo vado a chiudere questa carrellata di divulgazione con danzando sotto la pioggia che mi è piaciuto molto di curci di giulia zucchini e katrin boss la storia di cantando sotto la pioggia proprio il musical molto interessante ecco nella divulgazione diciamo legato alla musica ultima di divulgazione questo è sinnos il grande libro delle ruote di luogo comune è proprio una catalogo di ruote ecco di veicoli su ruota di qualsiasi natura vado a chiudere davvero questa carrellata con quattro libri che non sono per bambini e bambine ragazzi ragazzi ma per chi si occupa di loro non potevo ovviamente non prendere i nuovi due oblò di amelin questo è dedicato al star che questo a andrea che è un'autrice da noi piuttosto sconosciuta direi ma che adesso vedremo spesso pubblicata da adesso in poi sono già usciti i primi titoli sia per orecchio cerbo che per babalibri quindi occhio assomiglia sembra un po di ricordare che ti credo in effetti lo fa però lei è viene prima diciamo un po la maestra ecco poi leggere giorno per giorno frank serafini lettori e lettrici nel laboratorio di lettura questo edito da equilibri anche questo punto un saggio critico che propone anche una serie di cose pratiche se non ho capito male ma me lo devo studiare bene ve l'ho detto che qua sto andando leggera perché non sono ancora entrata nel merito di ciascuno di questi libri chiudo con scritto per te di cristina petita edito da solferino che è un libro che attraversa alcuni autori importanti per l'infanzia e l'adolescenza anche questo sono curiosa di vedere come lo farà insomma come sarà costruito il libro io davvero che mi fermo sono riuscito a tenere un tempo tutto sommato non eccessivo piano piano ve li racconterò tutti questi libri e naturalmente vi dirò anche gli altri che si aggiungeranno non saranno necessariamente non ce la faccio a recensirli tutti 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 e comunque lo saranno diciamo spalmati nel tempo partiamo da lunedì con uno di questi che vi ho fatto vedere ma insomma intanto ci tenevo davvero a condividere con voi la valigiona pesantissima e le borse di libri con cui sono tornata da bologna io vi qui vi lascio ci vediamo venerdì prossimo con un video particolare a cui tengo molto intanto vi ricordo che ci leggiamo tutti i giorni su teste fiorite punto it e i vari social se volete venire ad approfondire qualche aspetto della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza vi aspetto sul portale di teste fiorite lab ciao